Dopo Darwin è pericoloso chiamarsi vitalista o parlare di vitalismo, però vi sono eccezioni moderni. Pasteur, Bergson, con il suo elan vital, slancio vitale nell'Evolution Creatrice, Barthez, Lorda della Scuola di Montpellier e nella biologia teorica, specialmente i morfogenetici come Drish, Sheldrake, Waddington e Tom. Alcune dottrine sono più vicine al vitalismo, l'illosoismo, come se la materia fosse impregnata di vita, i presocratici, i stoici, Giordano Bruno per esempio, Tommaso Campanella e Ernst Heckel, l'infrapsichismo di Sharon, il panpsichismo di Hegel, Schelling, Morpho, l'ipotesi Gaia di Lovelock e Margulis, Le teorie di Teilhard de Chardin sul punto Omega, molte sono considerate pseudoscienze. Vi sono alcuni che accusano Aristotele di servitalista, l'enciclopedia Garzanti, Beckner e Regnell. Questa visione è contaminata dal dibattito cognitivista e psicologico, come abbiamo visto nella prima parte con Daniel Dennett. E bisogna distinguere l'analisi biologica animale e vegetativa della psiche dell'analisi mentale e cognitivista umana del NUS. Sulla questione del presunto vitalismo aristotelico e la sua connessione con la causa finale, Marjorie Greene, specialista di filosofia greca, critica l'accusa fatta da alcuni pensatori moderni ad Aristotele di essere l'inunciatore della visione vitalista. Marjorie Greene intenta correggere falsi concetti in relazione alle cause formali e finali aristoteliche, il telos, la forma e l'essenza. Marjorie Greene scrive Due idee sbagliate devono prima essere messe da parte sul telos. Telos non è in primo luogo e nello studio della natura non è affatto scopo o piano. Nella natura quello che, per il bene di cui una serie di eventi ha luogo, è il punto finale intrinseco in cui quella serie culmina normalmente, se non ci sono interferenze fatali. Che cosa succede di solito ad un uovo di pettirosso fecondato, per esempio? Un bambino pettirosso ne esce fuori, è il suo telos. Qui non c'entra in assoluto nessun tipo di scopo, sia di uomo o di Dio. Supporre altrimenti significherebbe introdurre una confusione giudeica o cristiana nel pensiero di Aristotele, dalla quale deve essere completamente esonerato. Ne è Aristotele principalmente interessato in un telos cosmico globale, nonostante il passaggio della generazione e della corruzione, e nonostante la causalità teleologica del motore immobile, il tipo di fini che di solito interessano Aristotele. Sono determinati punti terminali di particolari processi all'interno del mondo naturale. È vero che la stabilità dell'universo è per lui una condizione necessaria dei processi ordinati da suoi componenti, ma questo non è affatto il bersaglio del suo interesse primario. Al contrario è stato ancora una volta il Dio giudaico cristiano che, con l'aiuto del neoplatonismo, ha imposto il predominio di una teleologia cosmica sulla natura aristotelica. Tale ampio scopo è veramente opposto all'aristotelismo. Alcuni autori contemporanei ispirati da Aristotele parlano di neovitalismo. Generalmente questi sono antireduzionisti che parlano di un vitalismo emergente e olistico nell'organizzazione del corpo. Ad esempio, Jacques Monod accusa Michael Polanyi di vitalismo perché ricorre a dei campi morfogenetici e centri organizzativi Per John Hout e John Yeager questa accusa è dovuta a una comprensione superficiale del pensiero di Polanyi. Molti riduzionisti tendono ad avere una visione analitica che si oppone a qualsiasi visione olistica, sintetica o emergentista. Per alcuni materialisti il vitalismo sarebbe un concetto ingenuo di tipo aristotelico rettaggio di superstizioni incompatibili con la biologia moderna. La psiche sarebbe un enigmatico campo vitale fuori dalle leggi fisico-chimiche. È un'opinione che si trova in Beckner e Regnell. Antri dicono che Aristotele non è vitalista. Jacques Follon nota che Aristotele definisce la psiche a partire della vita, diversamente da Platone. Newman e Cameron presentano una visione di Aristotele più emergentista, dove l'anima non è materiale ma dipende dalla materia. Christopher Schiltz descrive anche Aristotele come funzionalista e Pierre Hubank come organicista. Singer e Barnes sottolineano la scala natura di Aristotele che sostiene la tesi della continuità o la presenza di numerosi gradi impercettibili tra la materia ed il vivente. La tesi della continuità o quasi continuità materiale sostiene che i viventi sono materialmente in continuità con le cose inanimate, nel senso che il confine tra le due classi è sottile. Lo si vede in Dawkins e in altri neodarvinisti con il problema della abiogenesi di cui parleremo più avanti. Aristotele scrive nel libro 4 delle parti degli animali «La natura infatti passa senza soluzione di continuità dalle cose inanimate agli animali per il tramite di esseri che, pur essendo viventi, non sono tuttavia animali, cosicché per la reciproca affinità la differenza tra l'un gruppo e l'altro appare minima». Per l'uomo cosa succede? Alcuni parlano di animazione ritardata «Delayed animation» «L'intelletto si introdurrebbe durante il processo embrionario». Si vede questione alla generazione degli animali a questa opinione fa ecco San Tommaso d'Aquino. Parleremo dell'animazione ritardata più avanti. Seguendo le distinzioni di Ernst Mayer, Cameron distingue tra un meccanismo forte dove gli organismi sono macchine chimiche e un meccanismo deboli dove gli organismi sono qualcosa di più che macchine sebbene le loro attività non sono in conflitto con le leggi della fisica e della chimica. Questa distinzione è compatibile con il dualismo cartesiano. Sober, Cameron, Wolf e Perrada distinguono anche i vitalisti tra un vitalismo forte e un vitalismo debole. Nel vitalismo forte gli organismi sono totalmente controllati da un'anima immateriale, fuori delle leggi fisiche vuol dire che c'è una specie di vitalismo sostanziale secondo Wolf e nel vitalismo debole gli organismi sono controllati da un'anima non fisica ma anche eventualmente non sostanziale semplicemente funzionale come lo descrive Wolf è un vitalismo funzionale che possiede una esistente indipendente delle interazioni fisiche Barthes per esempio passa dal vitalismo forte al debole e questo è tipico del vitalismo moderno. Alcuni aggiungono due alternative tra meccanismo e vitalismo il sophisticated mechanism dove i viventi sono composti da parte fisiche alcune parte o proprietà non si riducono all'analisi di parte o proprietà sottogiacenti ma si possono spiegare con queste e nessuna proprietà irriducibile a parte o proprietà sottogiacente possiede una causalità propria la causalità la causalità si esaurisce nelle potenze causali delle parti fisiche e c'è anche una visione intermedia come l'emergentismo dove i viventi sono anche composti da parte fisiche ma l'esistenza di ogni parte o proprietà dipende causalmente e logicamente dell'interazione tra microscopi e parti fisiche vi sono proprietà o parti del vivente che non si riducono a parte o proprietà degli stessi materiali nel non vivente e queste parti o proprietà godano di causalità sulle microscopiche parti senza violare leggi fisiche lo vedremo più in dettaglio nella nostra analisi dei gradi di autonomie dipendenti il rinascimento e la scoperta del nuovo mondo nel secolo XV hanno un'influenza nelle arti nelle tecniche e nelle scienze e aprono le menti a nuovi orizzonti la stampa e i viaggi fanno ribollire i pensieri e introducono la riforma e la contrariforma che aprono l'era moderna con tutta una serie di nuove idee filosofiche e dibattiti in particolare associati al concetto di vita qui distinguerò tre correnti tipiche di questo periodo moderno il dualismo meccanista con la figura di René Descartes contemporaneo di Galileo il vitalismo animistico di Georg Ernst Stahl che rappresenta la corrente vitalista e il monismo meccanista di Julien de la Metrie che manifesta un riduzionismo materialistico con la rivoluzione copernicana e galileana la scienza si è sviluppata sempre di più secondo schemi logici e matematici prendendo la meccanica celeste come archetipo scientifico di una precisione orologiera nei secoli successivi questo si estenderà a tutta la meccanica la fisica e poi la chimica e la biologia e infine nel ventesimo secolo a tutte le scienze moderne compresa l'economia la psicologia la sociologia eccetera questa evoluzione delle scienze è accompagnata da un'enfasi sulle cause materiali ed efficienti a scapito delle cause formali e finali quest'ultima ribattezzata teleologia nel 1728 da Christian von Volff è addirittura percepita come antiscientifica per esempio da Jacques Monod la scienza dei sistemi e la modellazione matematica collegano anche la causa finale alla nozione di attrattore ma nella biologia e nelle scienze della vita e nelle scienze umane il suo posto è ancora fortemente presente come sottolinea Ernst Mayer tuttavia nel 1958 Colin Spittendrich le ha dato un nuovo nome teleonomia termine ripreso da Monod e Mayer nel suo metodo di ricerca di una verità indubitabile Descartes riprende il dualismo platonico ma soltanto per l'uomo il io è come l'anima spirituale che pilota il corpo visto come struttura meccanica e compare così un dualismo di sostanze res corritans dell'anima e res extensa del corpo il cuore è semplice pompa di sangue in questo contesto la scienza moderna del 500 e 600 scopre il problema dell'origine del movimento il movimento dei corpi celesti ma anche dei cambiamenti vitali il primo autore è ancora visto in Dio tanto dai deisti illustrati come dai teisti e si sviluppano le nozioni fisiche di forza potenza energia eccetera e nel campo della vita nasce il movimento vitalista opposto al riduzionismo meccanista ma nella medicina in particolare nella fisiologia c'è una visione meccanistica specialmente con Giuliano de la Metri in suo libro l'uomo macchina lo sviluppo del razionalismo filosofico della fisica e della chimica va anche nella direzione del meccanicismo con delle spiegazioni sempre più efficaci dell'atomismo materialista con le formule chimiche utilizzando un linguaggio matematico così la biologia si fa sempre più materialista e riduzionista Stahl padre della chimica e contro il meccanicismo rappresenta il movimento vitalista gli organismi non possono essere macchine perché possiedono una vis vitalis che non esiste nel mondo minerale distingue la chimica organica dell'inorganica sfida il meccanicismo con tre argomenti la sintesi di composti organici è impossibile perché i materiali inorganici mancano della vis vitalis negli organismi viventi sono delle reali trasmutazioni sostanziali non movimenti di ruote cinghie e pulegge e le macchine non soffrono Wöhler nel 1828 sintetisa l'urea a partire di cianato d'ammonio crolla uno dei pilastri del vitalismo che diceva che composti organici non possono essere prodotti da quelli inorganici perché non hanno una forza vitale Ludwig mostra definitivamente che il sangue non è messo in motto da una forza vitale ma dal pompaggio meccanico del cuore meno problematico che il vitalismo nel ventesimo secolo nasce l'organicismo moderno e compare l'emergentismo alcune proprietà non si riducono a un livello inferiore nasce anche un nuovo vitalismo che si adatta alle conoscenze scientifiche dell'epoca specialmente con Von Humboldt Driesch e Sheldrake ma con la genetica sparisce quasi del tutto il vitalismo sebbene esistono teorie affine come per esempio quella di Gaia con Lovelock che dice che la madre terra è come un super organismo vivente ecosistemico o con per esempio le nozioni di campi morfogenetici di Tom e Waddington che sono molto in contra del riduzionismo darwinista e genetico e Wouger che rifiuta il meccanicismo puro e che parla di livelli di sistemi dell'atomo all'ecosistema che sono un po' autonomi e ogni sistema ha il suo linguaggio biologico parleremo di questo nello studio dei livelli di autonomia passiamo alla generazione spontanea perché allo stesso tempo che il movimento del vitalismo c'è anche tutto un dibattito sulla generazione spontanea o la biogenesi antica è la teoria che sosteneva che alcune forme di vita specialmente gli insetti nascessero spontaneamente a partire da sostanze inorganiche per mezzo di forze fisico-chimiche Aristotele pensa che gli affidi derivano della rugiada sulle piante le mosche dalla materia putrida i topi dal fieno sporco i cocodrilli dai tronchi sommersi marci abbiamo parlato già delle ragioni seminali dei stoici ma cominciano a fare esperimenti intorno alla generazione degli insetti Francesco Redi mise tre pezzi di carne in tre vasi uno lasciato aperto uno chiuso ermeticamente e uno coperto con una garza traspirante le larve apparvero solo nel contenitore aperto non importava quanto tempo restassero chiusi i vasi così omni vivum ex vivo la conclusione di Francesco Redi è che la vita ha origine da un essere vivente o da qualcosa che contenga un principio vitale non può originarsi da un organismo morto che per definizione ha perduto per sempre il proprio principio vitale qui si vede l'opposizione tra due teorie scientifiche il vitalismo con la forza vitale e la generazione spontanea sembra essere la vittoria del vitalismo e la sconfitta della generazione spontanea sono le mosche che trasportano germi quasi invisibili all'occhio nudo ma visibili al microscopio nel 1768 incontra di john nitman un sacerdote cattolico a favore della generazione spontanea il naturalista sacerdote italiano lazzaro spalanzani mostrò inoltre che le soluzioni contenuti microorganismi sebollite e poi sigillate non davano più origine allo sviluppo di microorganismi ma la critica vitalista diceva che i sigilli fanno mancare l'aria l'elemento vitale il passo successivo verso l'abbandono della teoria della generazione spontanea fu intrapreso dal chimico e biologo francese Louis Pasteur che sintetizzò le sue scoperte nella teoria generale dei germi patogeni Pasteur fece bollire del brodo di carne e un pallone di vetro con il colo piegato a forma di S nella maggior parte dei casi non si aveva alcuno sviluppo di microorganismi se tuttavia dopo la bollitura il collo veniva spezzato alla base dopo qualche giorno il brodo si riempiva di microscopiche forme di vita da questo esperimento Pasteur dedusse che i microorganismi osservati non si originavano spontaneamente dal brodo ma penetravano al suo interno dell'ambiente circostante Thomas Huxley usò il termine abiogenesi in un importante testo pubblicato nel 1870 fece rigorosamente la differenza tra la generazione spontanea che non accettò e la possibilità dell'evoluzione della materia da inerte a viventi senza alcuna influenza della vita dalla fine del diciannovesimo secolo la biogenesi evolutiva significa aumentare la complessità e l'evoluzione della materia dallo stato inerte a quello vivente nel contesto abiotico dell'evoluzione della terra primitiva ne parleremo naturalmente quando veremo l'evoluzionismo e il neodarwinismo contemporaneamente al vitalismo e alla generazione spontanea assistiamo anche allo sviluppo del meccanicismo che interviene nei dibattiti sul fenomeno vitale il meccanismo o meccanicismo è una filosofia che deriva dallo sviluppo tecnico di automi ossia di macchine relativamente autonome che colpiscono molto poiché il movimento autonomo era spesso considerato una prerogativa dei corpi celesti e degli esseri viventi citiamo lo scrittore dallo svizzero Pierre Racket-Drault è un pupazzo meccanico seduto che intinge la sua penna elimina l'eccesso d'inchiostro e scrive cogito ergo sum e funziona ancora nel museo di Neu Châtel vorrei anche citare l'analisi di Jessica Rischin sull'automa l'anatra defecante di Vaucanson secondo la Rischin l'anatra defecante e i suoi compagni hanno drammatizzato due affermazioni contraddittorie allo stesso tempo che gli esseri viventi erano essenzialmente macchine e che gli esseri viventi erano l'antitesi delle macchine la sua magistrale incoerenza ha permesso all'anatra di suscitare una discussione che continua quasi tre secoli dopo una credenza simultanea in entrambe le affermazioni che la vita animale sia essenzialmente meccanicistica e che l'essenza della vita animale sia irriducibile al meccanismo ha spinto da esibizioni dell'anatra fino ai giorni nostri a cercare di capire la vita riproducendola in macchine non che la storia della vita artificiale sia stata il semplice svolgersi di una dialettica soprastorica al contrario la dialettica rappresenta un momento storico un momento in cui stiamo ancora vivendo le sue convinzioni contraddittorie derivano da una combinazione che è emersa all'inizio del secolo diciottesimo e che ci è rimasta impressa da un lato una teoria materialista della vita animale molto diffusa e dall'altro l'incapacità di questa teoria di spiegare il fenomeno centrale della vita animale la coscienza nella misura in cui questa combinazione persiste e nonostante le trasformazioni scientifiche e tecnologiche degli ultimi due secoli e mezzo viviamo nell'era di Vaucanson il meccanismo porta al monismo materialista e un riduzionismo molto diffuso e un riduzionismo e un riduzionismo di Vaucanson